Assessore, ben trovata! Grazie, grazie ancora per avermi ospitata. Il ringraziamento è tutto nostro perché lei è sempre molto disponibile, quindi da subito le facciamo i nostri ringraziamenti. Come va innanzitutto in questa fase 2? Ha cominciato ad uscire più frequentemente? In realtà ormai già da qualche settimana siamo a Santa Lucia tutti i giorni, come si può vedere anche in questo momento. Sì, la vita sta riprendendo, ovviamente facendo attenzione. Avete sentito il Presidente? Mi raccomando, sempre mascherina, lavate spesso le mani, senza abbracciare e baciare nessuno, a meno che naturalmente non si viva sotto lo stesso tetto. Insomma, qualche accortenza però, diciamo, la vita piano piano può riprendere e la Campania è una Campania sicura. Assolutamente, abbiamo fatto una bellissima figura in tutto il mondo perché siamo stati coerenti, ecco, quindi un plauso va a tutti noi cittadini e poi soprattutto al nostro Presidente con i relativi assessori. E dunque, vogliamo partire subito dalla tematica del sociale, assessore. Lei ricopre la carica di assessore alle politiche sociali, e all'istruzione e alle politiche giovanili. Ha fatto tanto, continuerà a fare tanto, ma la notizia, diciamo, del momento è appunto lo stanziamento di aiuti per le famiglie. E quindi è stata pubblicata la graduatoria per queste famiglie che riceveranno un bonus. Ne vogliamo parlare brevemente e poi trattiamo gli altri argomenti. Sì, ci tengo a dire che l'elenco pubblicato è solo il primo. Lo dico perché dopo la pubblicazione mi sono arrivate centinaia e centinaia di mail, messaggi, perché naturalmente ci sono tantissime persone che non si sono ritrovate. E per cui ci tengo a dire che questa è solo la prima. Ovviamente, nelle prossime settimane ci saranno a mano a mano gli altri elenchi. Noi abbiamo pensato di procedere secondo degli step, una specie di catena di montaggio, anziché verificare tutte e 250 mila domande che sono arrivate presso la regione, presso i nostri uffici. Abbiamo immaginato, a seconda del reddito, di verificare a mano a mano le domande di modo da poter procedere con le liquidazioni. Per cui state tranquilli, a mano a mano naturalmente pubblicheremo gli elenchi, quindi potrete verificare se siete presenti o no. Bene, invece per quanto riguarda le pensioni, assessore che sono state appunto annunciate anche dal governatore De Luca per arrivare mi sembra a 1000 Euro, giusto? Qual è la situazione? L'integrazione appunto è di 1000 Euro per i mesi di maggio e giugno, dieci giorni fa, tra l'altro ci tengo a dire sabato a mezzanotte, la dirigente della direzione politiche sociali ha fatto la liquidazione all'Inps, quindi sono già più o meno dieci giorni che l'Inps ha 165 milioni di Euro che sono stati liquidati dalla regione Campania e proprio ieri mattina ci ha comunicato che il 29 di maggio farà le liquidazioni per circa 250 mila pensionati, per cui siamo felici, come dire, di avere mantenuto l'ennesimo impegno. Avevamo detto che entro il mese di maggio avremmo fatto la liquidazione e ci siamo riusciti. Ovviamente l'integrazione riguarderà due mensilità, quindi la prima è il 29 di maggio, la seconda è giugno, non sappiamo ancora quale sarà la data, plausibilmente insieme alle pensioni. Perfetto, prima di passare all'istruzione, ha ancora qualche news per quanto riguarda le politiche sociali che noi non conosciamo, ci vuole aggiornare oppure andiamo avanti? Volentieri, ci sono dei bonus che stanno per arrivare sui conti correnti o con domiciliazione postale alle famiglie con persone con disabilità e anche per loro stiamo facendo un lavoro a step, cioè a mano a mano che gli ambiti territoriali ci comunicano le persone che sono nell'elenco, noi stiamo procedendo alle liquidazioni. Abbiamo già liquidato più della metà di beneficiari e continueremo così, quindi davvero come una catena di montaggio. A mano a mano tentiamo di fare le liquidazioni, tentiamo gli ambiti territoriali, ognuno dei quali ha fatto manifestazioni di interesse e anche lì siamo andati prima su una serie di persone con disabilità che erano già state prese in carico dagli ambiti territoriali e sono quelle che stiamo in questo momento liquidando. Altri invece che hanno risposto alla manifestazione di interesse che ogni ambito della nostra regione ha approvato. Per questi naturalmente ci vorrà un altro po' di tempo, io immagino almeno una decina di giorni, di modo che poi consegnino alla Regione Campania questi ulteriori elenchi e noi possiamo procedere alle liquidazioni. Io ci tengo a dirlo, noi stiamo facendo davvero uno sforzo enorme, ci sono i dipendenti regionali che stanno lavorando senza la sosta. A questo naturalmente sono grave. È arrivata probabilmente una telefona. obbligo di farlo. Le è arrivata una telefonata forse, assessore? Sì. Sì, sì. Si era interrotta un attimo la linea, prego. Per noi era un obbligo proprio farlo perché sappiamo che molte persone sono state in grado di fare un'altra telefonata. Immagino che è tempestata, giusto? Prego, prego. E quindi insomma ci tenevamo naturalmente a far capire alle persone che sappiamo che stanno affrontando dei momenti estremamente complicati, difficili e quindi la Regione Campania cerca naturalmente di essere vicina alle persone. Assessore, le volevo chiedere se è stato deciso nella misura dei 1000 euro se rientreranno gli assegni di invalidità. No, né assegni di invalidità, né assegni di reversibilità. Non ci siamo riusciti. Già in questo modo sono circa 330 milioni di euro che la Regione Campania ha stanziato per quanto riguarda le pensioni sociali, pensioni di vecchiaia e assegno sociale. Mi rendo conto che ci sono anche altre categorie, altre persone naturalmente che hanno delle difficoltà ma noi davvero più di un miliardo di euro non siamo naturalmente riusciti a reperire ulteriori fondi. Considerate pure che davvero abbiamo avuto pochissimo tempo a disposizione e già stiamo facendo salti mortali per cui almeno in questo momento non riusciamo a integrare anche quelle di reversibilità o quelle di invalidità. Però rispetto alla disabilità abbiamo comunque questo bonus di 600 euro. Perfetto. Passiamo all'istruzione allora. bonus studenti, bonus io studio, parliamone un attimo. Per quanto riguarda con le famiglie l'abbiamo detto, appunto stiamo procedendo step by step e stiamo cercando naturalmente di liquidare quante più persone possibile. Tra l'altro ai 14 milioni di euro che erano stati stanziati al principio avendo ricevuto 250 mila domande abbiamo integrato la scorsa settimana con ulteriori 37 milioni di euro. quindi riusciremo comunque a far fronte ad un numero maggiore naturalmente di beneficiari. Poi se dovessimo trovare risorse continueremo a scorrere la graduatoria. Per quanto riguarda quella io studio sarà pronta la prossima settimana. Quelli sono comunque fondi ministeriali e quindi non siamo noi che li liquidiamo direttamente ma dovremo attendere i tempi del ministero. Devo pure dire che la settimana scorsa abbiamo anche chiesto al MIUR visto che noi siamo pronti con la graduatoria eventualmente di liquidare la quota che spetta alla campagna di modo che noi possiamo procedere immediatamente alle liquidazioni. Ormai abbiamo preso abbiamo detto che non è particolarmente complicato ovviamente non è più difficile per noi far fronte a tante richieste tante emergenze qui saremo pronti anche con la liquidazione di io studio. Ma questo naturalmente dipende dalla scelta del ministero se liquidare la quota alla regione campagna o meno. Assessore, quali possibilità ci sono nel riaprire i centri estivi? Guardi, su questo ci stiamo lavorando proprio domani avremo un incontro insieme al presidente De Luca con i pediatri della nostra regione per immaginare come dovrà cominciare il prossimo anno scolastico e naturalmente uno degli argomenti che sarà affrontato riguarderà i più piccini soprattutto per quanto riguarda i campi estivi ma anche la possibilità per molti di loro naturalmente di riappropriarsi di alcuni spazi sia per quanto riguarda le scuole che per quanto riguarda che ne so, giardini piuttosto che musei insomma ci sono delle linee guida che la ministra Bonetti ha emanato naturalmente per quanto riguarda la nostra regione saremo particolarmente attenti perché so soprattutto per quanto riguarda i campi estivi che sono particolarmente richiesti anche perché la fase dello smart working per molti sta andando via via scemando per cui tornando al lavoro naturalmente ci sono anche molte famiglie che hanno problemi dal punto di vista logistico ritengo però che la cosa più importante sia naturalmente dare delle opportunità ai bambini quindi per quanto sia importante naturalmente aiutare le famiglie rispetto proprio alla gestione dei tempi quindi credo che però la cosa più importante sia dare la possibilità di socializzare a tanti bambini tanti ragazzi mi sente assessore ecco sì sì la sento le volevo chiedere vuole fare una domanda da parte di una nostra telespettatrice il bonus babysitter viene riconvertito alle strutture ma come credito d'imposta? per quanto riguarda il nostro assolutamente no il nostro bonus può essere utilizzato sia per l'acquisto di tablet piuttosto che di pc ma anche come voucher per babysitter piuttosto che strutture noi lasceremo la possibilità più ampia alle famiglie di utilizzare queste risorse alla fine per loro saranno soldi che possono che potranno essere ritirati presso gli uffici postali già dalla prossima settimana per i primi beneficiari e potranno utilizzarli naturalmente come meglio credono per appunto la gestione dell'emergenza ancora una domanda se mi consente siamo nei tempi allora com'è la vicenda dei ritardi nel pagamento della cassa integrazione l'Inps sostiene che dipende dalla lentezza della regione è vero tutto questo assessore secondo lei guardi non è una misura di cui mi occupo però le dico che sono nella stessa chat perché anche gli assessori regionali utilizzano le chat dell'assessore al lavoro quindi le posso dire tutte le regioni per la verità stanno protestando rispetto alle comunicazioni che dà il governo la regione Campania è stata tra le prime a verificare tutte le domande e a inviarli all'Inps so che l'assessore Palmeri sta lavorando davvero pancia a terra per far fronte a quelle che sono le esigenze delle persone sicuramente la lentezza non è di pesa dalla regione Campania mi rendo pure conto che per l'Inps non sia un lavoro semplice da realizzare vi assicuro che però i nostri uffici hanno fatto tutto quello che potevano e dovevano Assessore un'ultima parola per i centri dell'infanzia che dicono sono al collasso lei lo sa benissimo insomma se non si pronuncia il governo per capire come fare ad andare avanti è molto difficile secondo lei a breve avremo delle notizie in merito? Guardi io me lo auguro tra l'altro l'ho già detto altre volte mi pare però importante ribadirlo la regione Campania appena riceverà il riparto per lo 06 il riparto nazionale destinerà una quota alle scuole private e paritarie dello 06 perché so bene che sono assolutamente in ginocchio soprattutto la fascia dello 06 perché dalla primaria alla secondaria di secondo grado naturalmente la scuola non si è interrotta per cui naturalmente le persone hanno continuato a pagare le rette a volte in maniera ridotta ma comunque la gestione è stata affidata naturalmente alla possibilità privata di gestire le quote e le rette per quanto riguarda lo 06 invece ovviamente la scuola si è totalmente interrotta questo ha determinato grave crisi per quanto riguarda le scuole per cui una parte dello 06 sicuramente sarà destinata all'ore un impegno che abbiamo preso che ha preso il presidente De Luca che ho preso io e naturalmente lo manterremo per quanto riguarda il riparto però dobbiamo aspettare naturalmente che la proposta venga fatta in conferenza a Stato-Regioni da parte del MIUR devo anche dire che la settimana scorsa venerdì c'è stata una riunione a cui ho partecipato come delegata delle regioni siamo in tre Liguria Toscana e Campania ho fatto presente naturalmente che è fondamentale che il riparto si faccia il prima possibile di modo che noi a nostra volta possiamo erogare i fondi agli istituti e aiutarli e dare sostegno in questo momento di difficoltà Perfetto Assessore grazie per il suo intervento davvero molto cordiale Grazie a lei perché è sempre estremamente gentile disponibile ed è sempre un piacevolissimo colloquio Bene allora ci aggiorneremo magari più in là sempre per vedere con i pediatri come è andata e soprattutto per capire i nostri figli insomma quando potranno ritornare a scuola in presenza magari ce lo auguriamo no? Ce lo auguriamo tutti sicuramente soprattutto per il primo ciclo quindi primaria e secondaria di primo grado i bambini devono ritornare a scuola è un must è fondamentale non possiamo immaginare una scuola differente Bene a presto allora e buon lavoro Arrivederci Arrivederci all'assessore Lucia Fortini della regione Campania